È un bando innovativo, 7 milioni di euro, scommettiamo sul fatto che ci siano tante persone in Abruzzo che hanno voglia di provare a dare vita a un'attività che gli consente anche di avere un reddito. È rivolto ai disoccupati over 30, cerchiamo di aiutarli a fare una nuova azienda. Naturalmente siamo parlando di disoccupati over 30 perché poi ci sono altri strumenti per i giovani. Ecco, la cosa innovativa è che noi non ci limitiamo a dare dei soldi. Il bando è concepito in tre fasi. La prima fase è una fase di formazione, bisogna quindi iscriversi, seguirlo sui siti, iscriversi e Abruzzo sviluppo provvederà ad un ciclo formativo per accompagnare fin dall'inizio nell'impostazione in azienda che spesso è cosa complessa, chi volesse provare a scommettere. Poi si entra nella fase di sostegno. È un intervento in de minimis ma noi diamo fino al 90% a fondo perduto con una diversa gradazione a seconda delle tipologie, artigiani, commercianti, professionisti, servizi. Quindi è un sostegno significativo con il quale è possibile rendicontare diverse attività dalle spese notarili fino all'acquisto di macchinario, fino all'acquisto di software, eccetera. E poi c'è anche una terza fase, cioè la fase attraverso la quale Abruzzo sviluppo successivamente per tutto il primo anno accompagna questa nuova attività, questa nuova impresa e la assiste per tutta la fase complessa che è legata sempre a quel periodo critico che è il primo anno di attività di un'impresa in cui una persona che dà vita ad un'impresa oltre a dover fare attività di impresa spesso si perde i meandri di una complessa burocrazia che in questo caso viene in gran parte servita, agevolata e aiutata dal lavoro di Abruzzo sviluppo. Quindi è una cosa seria, innovativa. Sono 7 milioni, vale per tutta la regione, sono quote riservate per le aree più disagiate, ma tutti possono partecipare. Io mi aspetto che la platea dei mille ammessi all'inizio possa darci numeri significativi.